Nuovo DPCM, nuove restrizioni. Da oggi scattano ulteriori strette, ma non cambia il principio. Chiudere per rallentare la circolazione del virus. Il provvedimento sarà in vigore per un mese esatto, fino al 6 aprile, quindi Pasqua compresa. Fino ad allora sarà vietato andare a trovare a casa amici e parenti per chi abita in zona rossa. Qui chiuderanno inoltre parrucchieri, barbieri ed estetisti e niente lezioni in presenza per le scuole, didattica, distanza per tutti. Resta sempre vietato lo spostamento tra regioni, anche durante le festività pasquali, e le seconde case sono raggiungibili solo se con il nucleo familiare, tranne che in zona rossa o arancione rafforzata. Va meglio nelle aree gialle, dove si allargano le maglie per teatri e cinema. La speranza è di riaprire dal 27 marzo, così come per i musei, nel fine settimana. Niente da fare invece per palestre, piscine e impianti scistici. In zona gialla, arancione e scuole aperte, a meno che l'incidenza settimanale non superi 250 casi su 100 mila abitanti. Parametro indicato dal governo dal comitato tecnico scientifico che, nonostante le misure già prese, esprime grande preoccupazione per la crescita dei contagi. Inutile fermare le elezioni, ragionano i tecnici, se restano aperte le altre attività, dai negozi ai ristoranti, e così il parametro dell'incidenza potrebbe servire per far scattare in automatico le zone rosse locali. Valutazione che rimarrà sul tavolo delle possibili misure anche la prossima settimana, se quelle introdotte dal DPCM non dovessero bastare. Intanto, con questa circolare ai prefetti, il Ministero dell'Interno chiede di rafforzare i controlli nelle zone della Movida, in cui si sono verificati assembramenti a ridosso del cambio di fascia di rischio.